Una parola a proposito della questione dei milioni di dosi trovate. Dunque, il sabato sera ricevo una telefonata dalla Presidente della Commissione Europea segnalandomi questi vaccini, alcuni lotti, le identità di alcuni lotti che non tornavano nei conti della Commissione e che sarebbero stati giacenti presso lo stabilimento della Catalent, che è una società che infiala i vaccini, di Anani. Mi si suggeriva di ordinare un'ispezione. La sera stessa ho chiesto al Ministro Speranza di bandare i NAS, che da lui dipendono. Sono andati immediatamente alla fabbrica e la mattina, dopo aver lavorato tutta la notte, hanno identificato effettivamente quei lotti che erano in eccesso. A quel punto i lotti sono stati bloccati, oggi ne sono partiti due, ma sono stati spediti in Belgio, quindi all'interno dell'Unione Europea, alla casa madre a AstraZeneca. Da dove andranno lì io non lo so, però intanto la sorveglianza continua per i lotti rimanenti.